Signori chiamiamo i belli dell'orchestra, i belli dell'orchestra suonano la fisa armonica tutte e due, eccoli qua, sono Mattia Costantini, Massimo Cosmai e faremo la danza del sole signori, fino adesso ha funzionato, adesso tocca a voi Grazie Sono belli o no? Sono barati? Sono ricchi? Grazie 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 Faci alti Guarda come soffre Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.